Preferisco parlare di noi questa volta perché penso che sia giusto dare merito e riconoscenza soprattutto ai ragazzi per quello che stanno facendo. È stato un anno molto lungo, è stato un anno molto difficile. Io sono qua da più o meno quattro mesi e è un continuare a rincorrere, 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 rincorrere e quindi ci siamo preparati bene, sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo come ci dobbiamo comportare, sappiamo come dobbiamo attendere questa gara, sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e sappiamo che poi possiamo perdere, pareggiare o vincere ma io sono convinto che questa partita dipenda veramente molto da noi. Siamo noi che abbiamo questa grande opportunità di poterla cogliere e io sono convinto che domani saremo duri a morire, saremo duri a morire perché vedo i ragazzi come la stanno aspettando questa partita e quindi non vedo l'ora che inizi la gara, non vedo l'ora che l'arbitro fischi l'inizio della partita. Come vi ho già detto anche precedentemente c'è poi l'abitudine, c'è l'abitudine, c'è l'adattabilità, l'attitudine soprattutto di essere entrati anche a livello mentale in una fase importante. Io dico sempre che quando giochi tanto anche i ragazzi preferiscono giocare tanto che allenarsi tanto, è normale, è fisiologico, è naturale, è la gara che ti dà gli input positivi, è la gara che ti dà entusiasmo, è la gara che ti dà le emozioni, è la gara che non vedi l'ora di giocarla. Quindi credo che sotto questo punto di vista e questo aspetto i ragazzi hanno dimostrato di saper recuperare molto, di tenere sempre alta l'attenzione e quindi oggi sappiamo che mancano tre partite, sappiamo che mancano cinque allenamenti alla fine della stagione. Abbiamo voglia di finire tutti nel miglior modo possibile e quindi anche la stanchezza, è normale che stanchezza, il caldo, il poco recupero, secondo me se le prepari bene con la testa riesci a superare tutte queste piccole difficoltà. Sì, però questi giorni si è allenato spesso con noi Vicco quindi è pronto per giocare anche lui la gara di domani. Al momento abbiamo fuori Stefan perché è squalificato, Nihad che ancora ne avrà per tanto tempo e ancora con noi non si è allenato Cristian. Tre partite davanti a noi, tre partite importanti potrebbero essere fondamentali, però è chiaro che siamo al 100% con la testa alla gara di domani, la gara di domani non ha un passato, la gara di domani non ha un futuro, la gara di domani è il presente, quindi ci piace giocarle, ci piace prepararle, ci piace viverle così.